Benvenuti alla prima puntata del TG Fortune. Le prime notizie arrivano da un piccolo paesino vicino Milano, isolato per via del nuovo coronavirus, il Covid-19. Da noi l'inviato urbano vigile, a lui la linea. Siamo in diretta da San Pietro, un piccolo paesino alle porte di Milano dove le persone per paura del coronavirus sono rimaste rinchiuse in casa. Questa è una delle stradi principali del paese e come ben vedete è completamente riserta. A quest'ora la gente dovrebbe tornare a casa da lavoro. Abbiamo incontrato un cittadino che è stato isolato. Come si chiama? Ignazio, la corte. Signore Ignazio ci può spiegare cosa è successo qui a San Pietro durante il periodo dell'epidemia? Ma guarda, a me è un cazzo. Vivo qui da solo, non mi importa niente. E quindi lei vive qui per paura del virus o per altri motivi? Ma guarda, altri motivi per auto isolarmi oltre mia moglie, mia suocera, sinceramente non ne conosco. E poi soprattutto sto coronavirus, non ho capito manco che cosa sia. Ok, e perché indossa la mascherina? Ma sembra essere diciamo il trend del momento, giusto per adeguare farmi un po' ai tempi d'oggi, sembra un po' andare di moda, quindi mi sono proprio adeguato. Ma come fa a vivere in questa abitazione? Ma guarda, tipo da buon abusivo, con tutta la plastica che vede in giro qua nei campi. Ok, ok, a buona linea. Ma dai, ma te l'hai detto? Sì, che sono andata a letto con lui. Ah, siamo tornate in linea, scusate. Grazie Urbano Vigile per il bellissimo servizio. Abbiamo capito che la situazione è molto, molto tragica. Eh già, abbiamo capito. Comunque ragazzi, per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata.